ciao a tutti amici di discover messina sisili e bentornati al nostro appuntamento quotidiano con la rubrica di discover messina racconta io sono sabrina e prima di iniziare a parlarvi dell'argomento che ho scelto oggi per voi volevo ricordarvi di iscrivervi se non l'avete già fatto al nostro canale youtube per farlo è semplicissimo vi ricordo la procedura basta cliccare sul pulsante iscriviti che trovate in basso a destra del video inoltre attivando la campanella sarete avvisati ogni in qual volta pubblicheremo un video nuovo durante un precedente incontro virtuale con la mia collega cecilia avete ascoltato un po di storia dell'arte culinaria in sicilia attraverso le varie dominazioni che si sono susseguite sull'isola e oggi invece vi voglio proporre un tour culinario ovviamente virtuale che illustra i prodotti tipici della bellissima e soleggiata terra di sicilia superflu ricordare che lo sviluppo dell'arte culinaria siciliana è strettamente collegato alle vicende storiche culturali e religiose dell'isola nel contesto generale si può affermare che la cucina siciliana sia motivo di riconoscimento e di identità comune a tutti i siciliani e nell'epoca moderna motivo di attrazione turistica complessa ed articolata è la cucina siciliana ed è ritenuta la più ricca di specialità e la più scenografica d'italia alcuni dei cibi più noti diffusi addirittura a livello mondiale sono la cassata il cannolo siciliano la granita e le arancine una caratteristica della cucina sicula è quella di avere per ciascun territorio delle pietanze culinarie circoscritte a quella determinata aria per esempio le panelle sono palermitane o i mucunedi di mazzara del vallo i quali hanno una preparazione rilevata solo nella loro zona di origine e tale caratteristica ha portato spesso ad una distinzione culinaria tra sicilia occidentale centrale ed orientale l'aria profumata dell'isola è data da una vasta quantità di piante aromatiche e se infatti posta al centro del mar mediterraneo gode di un clima mite ideale per far crescere piante aromatiche e spezie un famoso scrittore francese grudemo passa scriveva la sicilia è il paese delle arance del suolo fiorito la cui aria in primavera è tutto un profumo tra le piante aromatiche più conosciute più utilizzate nella cucina dell'isola troviamo l'alloro il basilico la menta l'origano il finocchio selvatico il timo la salvia e il più noto è il cappero coltivato sull'isola vulcanica di pantelleria in provincia di trapani nel giugno del 1996 è stato riconosciuto il marchio igp esso costituisce un ingrediente fondamentale di molti piatti della cucina siciliana come ad esempio la caponata di verdure e un'altra spezia significativa per l'isola è lo zafferano introdotto dagli arabi e veniva soprannominato l'oro rosso di sicilia oggi è conosciuto perché con esso si condiscono gli arancini un alimento antichissimo dell'isola è il formaggio che veniva prodotto in tempi arcaici e veniva molto apprezzato dalla popolazione ancora oggi nell'isola quando si vuole fare un dono gradito in varie circostanze si usa regalare del formaggio fresco l'isola produce numerose varietà di formaggio tra i più famosi e più diffusi in tutta la sicilia è il calcio cavallo ragusano è uno dei più antichi prodotti caseari dell'isola alla forma di parallelepipido con gli angoli smuzzati è un formaggio di riproduzione limitata per la cui preparazione si utilizza esclusivamente latte ottenuto da mucche di razza modicana e nel 1996 ha ottenuto la certificazione dopo altro formaggio tipico è la provola dei nebrodi che come dice il nome stesso viene prodotto nei monti nebrodi in provincia di messina è un altro grande prodotto caseario della tradizione siciliana è la ricotta che rappresenta la base fondamentale sia per il settore culinario che per quello dolciario di tutta l'isola basti pensare che il famoso cannolo siciliano o la cassata senza la crema di ricotta non si potrebbero gustare nell'ottocento era addirittura chiamato il formaggio dei poveri come verdure ortaggi invece l'isola offre una variegata gamma di prodotti pat ossia prodotti agroalimentari tradizionali italiani e tra quelli tipici regionali ricordiamo l'aglio rosso di nubia che è anche presidio slow food la patata novella di messina ed inoltre il pomodoro di pacchino che è un prodotto igp per la sua qualità territoriale un altro prodotto tipico dell'isola è il sale marino i siciliani hanno una grande tradizione per la produzione del sale infatti la regione rappresenta una delle maggiori produttrici di sale insieme alla calabria e dall'emilia romagna la produzione è concentrata tutta nel trapanese dove si raccoglie il sale marino di trapani igp questo minerale era conosciuto fin dall'epoca fenicia e greca quando vi si facevano essiccare i pesci dentro i lachi di sale per poi mangiarli ed era considerato il piatto della gente povera essendo la sicilia terra di mare conta vaste varietà di pesci nelle sue ricette culinarie lo si può acquistare generalmente al mercato popolare che viene allestito giornalmente in quasi tutte le località dell'isola è un tempo tra le famiglie più povere il pesce rappresentava quasi l'unica fonte di alimentazione assieme al pane ed alle verdure e le varietà di pesce più frequenti nei mari della sicilia sono il pesce azzurro per esempio come le sardine le alici i crostacei e i molluschi e un altro tra i pesci più famosi ricordiamo il pesce spada il tonno ed il gambero rosso di mazzara riguardo il pesce spada vorrei aprire un capitolo a parte la sua pesca è talmente importante nella storia della nostra isola ad avere introdotto una tecnica molto particolare diffusa soprattutto nello stretto di messina essa ha bisogno di un mezzo particolare ossia di un tipo di imbarcazione chiamata feluca a bordo di essa c'è il rematore in siciliano umezzeri ed il lanciatore ulanzaturi che tiene in mano l'arpione per infilzare il pesce spada non appena si avvicina un altro componente del gruppo è un tinneri che da una posizione elevata segue i movimenti del pesce e coordina tutte le manovre di avvicinamento alla preda e mi è piaciuto parlarvi di questo argomento in quanto la pesca del pesce spada ha una tradizione millenaria ed è una pratica menzionata addirittura da omero nella sua odissea famoso in tutta l'isola è il cosiddetto cibo da strada oggi conosciuto come street food esso in sicilia ha origini molto antiche già ai tempi dei greci si usava mangiare del cibo fuori casa per le vie della città e la tradizione è ricca di preparazioni veloci e poco costose in vendita in bancarelle o chioschi per strada nel palermitano per esempio si usa mangiare fuori pane panelle del pane con la milza in tutto il resto dell'isola si mangiano gli arancini la pizza in tutte le sue varianti calzoni la scacciata inoltre durante le festività religiose le strade siciliane soprattutto nei piccoli paesi si riempiono di fiere culinarie dove si trovano frittelle di ogni tipo sia dolci che salate e tutto ciò che si può mangiare camminando per le vie palermo è stata classificata addirittura la quinta città al mondo per cibo da strada la buona posizione geografica dell'isola favorisce una grande produzione ortofrutticola e alla frutta viene dato un ruolo importante nell'alimentazione e nella cucina dell'isola si producono in grande quantità per esempio rancio e limoni che spesso vengono serviti in insalata con olive aceto e olio come antipasto un'altra frutta tipica siciliana sono i fichi d'india detti anche bastaduni in siciliano e anche le mele cotogne dalle quali si ottiene un'ottima marmellata detta cutugnata altro cibo festaiolo per eccellenza è costituito dalla frutta secca tra cui spiccano le mandorle di avola e i pistacchi di bronte entrambi molto utilizzati nelle preparazioni di dolci e piatti tipici della cucina siciliana ma grande importanza hanno anche i passuli ossia l'uva passa anch'essa quasi sempre presente nei piatti siciliani per passare ad un argomento molto gradito vi illustrerei alcune delle più tipiche dolci delizie siciliane la cui fama non si è fermata al territorio dell'isola ma si è diffusa in tutto il mondo chi è infatti che non conosce la cassata siciliana preparata con pan di spagna ricotta glassa e canditi e che dire dei famosi cannoli ricoperti di ricotta e poi le paste di mandorla ottenute dalla note ricercata mandorla di avola e prodotte su tutto il territorio sempre di pasta di mandorla è un altro dolce originario della sicilia ossia la frutta martorana alla quale si dà la forma di diversi frutti deve il suo nome alla chiesa di santa maria dell'ammiraglio detta chiesa della martorana eretta a palermo nei pressi del vicino monastero benedettino fondato dalla nobile donna eloisa martorana da cui questa frutta prese il nome e per le festività pasquali ancora si prepara in tutta l'isola un dolce un altro dolce della dalla caratteristica forma di agnello fatto di pasta di mandorla detta anche pasta reale e ripieno di pasta di pistacchio un'altra specialità siciliana il cioccolato di modica che si ottiene da una particolare lavorazione a freddo del cioccolato e granuloso friabile diverso per consistenza e sapore dal solito cioccolato che siamo abituati a gustare arriva in sicilia durante la dominazione spagnola ma la sua tecnica di lavorazione è originaria del popolo azzeco un dolce tipico natalizio ampiamente diffuso su tutte le tavole siciliane è il torrone che viene preparato con miele albume d'uovo mandorle e pistacchi famosa e conosciuta anche fuori dal territorio invece la pignolata messinese che ha come ingrediente di base la pigna ossia un pallino di pasta fritto è ricoperto di glassa al cioccolato e al limone inoltre un altro dolce dell'antica tradizione è il sorbetto al limone che si usa spesso come alimento per separare le portate di pesce da quelle di carne poiché il suo sapore agrodolce è adatto a rinfrescare il palato e come si fa parlando di dolci siciliani a non parlare della tipica granita ogni città ne ha una caratteristica anche se in tutta l'isola si può gustare alle mandorle alla fragola al limone al caffè eccetera nessun turista quindi può lasciare l'isola senza aver gustato questa delizia essa è nata in sicilia durante la dominazione araba gli arabi di sicilia mescolavano la neve dell'etna che custodivano nelle grotte delle montagne per farsela durare tutto l'anno con della canna da zucchero e del succo di frutta ed ottenevano così la granita se mi avete seguita in questa lunga carrellata avrete sicuramente capito quante bontà può offrirci questa meravigliosa terra con la sua storia i suoi profumi i suoi colori i suoi odori e le sue delizie culinarie a questo punto cosa c'è di più bello che venirle a conoscere e degustare noi e la sicilia vi aspettiamo un bacio a tutti vi abbraccio ovviamente virtualmente come sempre vi ringrazio per avermi seguita se questo racconto vi è piaciuto potete lasciare un like e a presto con un'altra storia con discover messina si si li racconta